Nel 1988, a Manchester, in Inghilterra, un computer dell'IBM iniziò a far vittare l'intero ufficio. Alcune anomalie, come spengimento del monitor e caratteri che comparivano all'improvviso sullo schermo, fecero spaventare l'intero reparto. C'è chi dice anche di aver sentito strane voci e uscirono anche dei gemiti terrificanti. Venne anche contattata l'assistenza dell'IBM perché accertasse eventuali danni, ma non vennero trovate strane anomalie. Per i tecnici si trattava solo di un problema di interferenza con un vicino radar che trasmetteva dal vicino aeroporto. Ma ciò non spiega quei strani gemiti che sentiva gli operatori di quell'ufficio.